Un grande impegno che la regione fa a favore dello sport è quella alla gradatoria del cosiddetto talento sportivo. Con questo bando riusciamo a tutti i nostri atleti under 23 su tutto il territorio regionale che hanno dei successi sportivi, che riescono a diventare i campioni del mondo, campioni italiani, europei e ne abbiamo tanti, riusciamo con questo bando a sovvenzionare la loro attività sportiva per fare in modo che rimangano sul nostro territorio a svolgere la loro attività. Per noi è un punto di orgoglio, siamo molto soddisfatti perché ogni anno riusciamo ad aiutare 70 ragazzi di tutte le varie discipline a continuare a svolgere le loro attività nelle società sportive in Liguria. Riteniamo che il talento sportivo i giovani debbano essere aiutati perché purtroppo quando si arriva a 17-18 anni c'è una grande perdita, un grande abbandono dell'attività sportiva. Questo non deve accadere perché il modo dello sport, le società sportive sono avere proprie palestre di vita, insegnano ai nostri ragazzi come affrontare la vita in contesti molto affidabili, con dirigenti, con persone in gamba che oltre a far fare attività sportiva ai nostri ragazzi gli insegnano ad affrontare la vita. Quindi su questo tema occorre investire sempre di più per far sì che l'abbandono sportivo man mano riesca a diminuire.